Choc in Ecuador dove il candidato alla presidenza Fernando Villa Vincenzio è stato ucciso al termine di un evento durante la campagna elettorale. Giornalista politico è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco all'uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale. E' morto durante il trasferimento all'ospedale locale. La Salma è stata poi trasferita all'obitorio per l'autopsia. Il presidente uscente, Guilielmo Lasso, si è detto indignato e scioccato e ha proclamato lo stato di emergenza. Vi assicuro che questo crimine non resterà impunito, ha dichiarato, contannando l'atto con un post su Twitter. La mia solidarietà e condolianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito. Sei arresti e una vittima, si tratterebbe del sospetto killer del candidato. La procura generale ecuadoriana ha fatto sapere che sei persone sono state arrestate e sospettate di essere coinvolte nell'attentato. Nove i feriti, tra cui un'altra candidata e due poliziotti. Ma chi era? Fernando Villa Vincenzo, ex deputato, giornalista molto noto nel paese, era uno degli otto candidati alle presidenziali in Ecuador nel prossimo 20 agosto. Correva per il movimento Costruire l'Equador, si era presentato come un accanito oppositore della corruzione nel paese. Nelle ultime settimane non aveva risparmiato critiche alle forze dell'ordine e allo Stato sul modo di affrontare il narcotraffico e la criminalità organizzata. Aveva denunciato presunte collusioni fra potere e bande criminali, ricevendo in cambio pesanti minacce dai rappresentanti di alcune organizzazioni dedicate al narcotraffico.